Sport, motori, benessere nel tempo libero e territorio. Ancora questi gli elementi del nuovo evento che ha visto questa volta a Terni la firma di Rossi Mercedes-Benz della casa automobilistica tedesca. In scena infatti il torneo Rossi Mercedes di tennis città di Terni che ha saputo coniugare l'attività sportiva all'aria aperta al piacere dell'avventura, complici le tante vetture che è stato possibile ammirare e provare. Due settimane di torneo di tennis dedicato alla casa di Stoccarda, quindi al brand Mercedes ma anche alla nostra concessionaria Rossi con una conclusione di sabato e di domenica dove è possibile come sempre nei nostri eventi esterni provare delle vetture sportive del gruppo Mercedes. Tante vetture oggi a disposizione dei clienti, si è fatto un piccolo tour per farle provare con continuità e assaporare quindi le curve e i percorsi. Ad affiancare la concessionaria nell'evento gli istruttori della scuola di guida sicura Enge Driving Academy. Noi siamo in affiancamento io e i miei tre colleghi per quanto riguarda le vetture fornite da Mercedes-Benz Italia. Abbiamo una vastità di gamma notevole, infatti abbiamo ben 12 vetture a disposizione quest'oggi di diverse tipologie, cilindrate e alimentazione. Abbiamo vetture alimentate a gasolio e alimentate a benzina. Abbiamo vetture AMG, quindi più sportive, il massimo della sportività da Mercedes-Benz. Ancora una volta a fare da padrone il vertigine che è un format che è stato studiato nel 2016 da Mercedes-Benz Italia proprio per massimizzare e valorizzare gli eventi in esterna. Abbiamo iniziato nella primavera con il torneo Golf Rossi di Perugia. Continuiamo oggi con il torneo di tennis Città di Terni. Siamo passati per la Inge Performance che ha toccato le nostre filiali di Arezzo e Perugia. arriveremo a settembre con la Inge Performance Tour su Viterbo e Terni e ancora torneo di golf Città di Arezzo, settembre-ottobre.